La Benetton Basket coglie il secondo successo di fila, battendo la Fabi Shoes-Montegranaro 95-91 al Palaverde, dopo un infiammato e tesissimo finale. Inizio convinto per i biancoverdi, con Hortner e Vigiano. Montegranaro però sta agganciata e tenta di scavare il primo mini-solco con la tripla di Zorowski e i canestri dello scatenato May. Il primo quarto si chiude 28-26. Treviso riparte con un quintetto di piccoli e resta avanti. Sul parchè si lotta sotto canestro, quando la Benetton si porta sul 33-30. Il quintetto trevisiano sembra tenere il gioco, ma sbaglia un paio di canestri facili da sotto. Così deve subire il ritorno degli ospiti. Montegranaro non molla la presa e resta appiccicata a Treviso. Zorowski da 3 a 30 secondi dalla sirena, si inventa da lontanissimo il tiro del pareggio. La Benetton torna in campo colpiglio giusto, si dimostra più aggressiva e dimostra di saper tenere il vantaggio, nonostante una bomba a fil di sirena di Di Bella che porta i suoi a meno 6, 71-65. Inizia l'ultimo quarto e Sani Becirovic mette subito una tripla, 74-65. Ed è un botta e risposta che salta il palaverde. Thomas dall'angolo infila la bomba dell'86-85. La velocità di McNeill e le forzature al tiro della Benetton lanciano Montegranaro però sull'88-91. Nell'ultimo minuto di match il disperato tentativo di Capitan Bulleri è magia. Penetrazione a canestro a 22 secondi dalla sirena e fallo subito. Con il libero aggiuntivo segnato che fa saltare in aria i tifosi biancoverdi. Ultimo possesso marchigiano. Valli chiama timeout. Il palaverde è tutto in piedi e sostiene al meglio la Benetton. Recupero super di Vigiano che poi si lancia a canestro e servito da Capitan Bulleri schiaccia a canestro per il 95-91. E l'obiettivo playoff si fa più vicino. Grazie a tutti.